Tutto pronto, inizia il match tra Terracina e Città di Teramo, 1913. Pronto con l'angolo, attenzione, si resta ancora lì, il tiro che viene ribattuto, insiste poi il Terracina con il tiro che viene effettuato dal numero 4 Petruccelli. Siamo nel corso del trentesimo minuto, insiste ancora qui il Teramo con Osses, prova poi la verticalizzazione, Esposito, Esposito e la parata da parte di Martinelli. Quando siamo al trentaduesimo del primo tempo. Ferraioli, lancio lungo, attenzione qui Massarotti con il tiro e c'è il gol, il gol del Teramo, il gol del Teramo esattamente al trentaquattresimo. La rete di Massarotti e porta avanti 1 a 0, il bianco-rossi. Attenzione, pallone per il Terracina, attenzione, gol, subito pareggio del Terracina con il numero 9 Curiale al trentacinquesimo. La rete da parte di Curiale. Un po' di testa di Van Zand, il tiro da fuori area, la grandissima parata di Negro. Tiro di Curiale, esattamente al trentottesimo. Blocca con facilità, arriva il fischio del direttore di gara, finisce il primo tempo con la volpe di Terracina. Terracina 1, Teramo 1. Tutto pronto per il secondo tempo che ricomincia proprio in questo momento. Con il destro si cerca Santirocco, poi Osses, pallone che termina fuori. Il mancino velenoso di Osses. Contro Massarotti, poi Merluzzi. Prova a mettere in mezzo, pallone che prende una traiettoria molto strana. Attenzione, nella zona proprio di Bellante. Poi il Terracina qui che sfiora il gol con Curiale. Curiale spinge anche Pomante dalla panchina. Tanto Rosania ha un intervento un po' scomposto. Santirocco che recupera Touré. Ridosso l'area di rigore, arriva anche Sanseverino. Mette in mezzo Sanseverino. Poi arriva Osses che spedisce fuori al trentaduesimo. Duello tra Camarà e Touré. Viene vinto da Camarà. Prova l'iniziativa, Camarà. Attenzione, numero Camarà, Camarà. La parata di Negro al trentanovesimo. Dargli supporto ma finisce qui al Mario Colavolpe di Terracina. Teramo che pareggia appunto contro il Terracina. Finisce uno a uno. Finisce uno a uno.